Buongiorno per Notizia Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia del senatore Nazario Pagano del gruppo di Forza Italia. Lei è stato impegnato diffusamente anche con gli esponenti del suo partito in Abruzzo per la campagna elettorale. Qual è la sensazione che lei ha? La sensazione è positiva, ma poi come sempre in occasione degli appuntamenti elettorali qualche sorpresa c'è sempre. Sono cinque i comuni a doppio turno, io mi sono occupato prevalentemente di quelli dove abbiamo presentato la lista di Forza Italia. Essendo il coordinatore regionale mi sono preoccupato innanzitutto di questo, abbiamo avuto molti ospiti big nazionali dal Presidente Tajani alla Presidente Bernini, ieri c'è stata la senatrice Licia Ronzulli. Abbiamo cercato di dare un contributo. La sensazione è positiva e noi pensiamo di avere ottime possibilità di andare al ballottaggio ovunque e speriamo anche in uno o due comuni addirittura di farcela già al primo turno. Ricordiamo che i comuni sono quelli più grandi, perlomeno c'è Francavilla, poi Lanciano, Vasto... Roseto e Sulmona, ecco. Bene, le politiche del governo Draghi. Forza Italia sostiene il governo e una sua opinione come senatore per il ruolo che ha il Presidente Draghi e per le iniziative soprattutto legate per il piano nazionale di ripresa. Dunque, è cambiato tutto da quando Mario Draghi è divenuto Presidente del Consiglio, ma non solo perché anche senatori come me sono passati dall'opposizione alla maggioranza. Forza Italia, lo ricordo a chi ci ascolta, ha tre ministri importanti, Renato Brunetta alla pubblica amministrazione che ha già fatto riforme importanti, Mara Carfagna che per noi che viviamo in una regione del sud è fondamentale perché è ministro per le politiche del sud e infine Maria Stella Gelmini che è ministro degli affari regionali, quindi tre di castelli fondamentali in una fase di ripresa come questa. Mario Draghi, un giudizio su Mario Draghi è eccezionale, un giudizio veramente splendido, è l'unica figura autorevole che l'Italia ha in questa fase e non solo in questo momento della storia, è divenuto di fatto un punto di riferimento non solo per l'Italia ma per l'intera Unione Europea, soprattutto dopo l'uscita di scena di Angela Merkel e vediamo come le cose stanno andando per il meglio anche per il nostro Paese dopo un anno e mezzo di pandemia con indici economici devastanti, molto preoccupanti soprattutto per le partite IVA ma non soltanto, tutti gli indicatori economici erano crollati oggi invece registriamo una crescita del PIL straordinaria, l'indice di crescita addirittura previsto in primavera è stato ampiamente superato, si pensava al 4,5%, invece entro la fine di quest'anno probabilmente toccheremo il 6% che vuol dire che nuova ricchezza per le famiglie, nuova spesa pubblica non c'è solo il piano di ripresa e resilienza di cui parlava lei ma c'è qualcosa di molto più c'è la possibilità di nuova occupazione, insomma con il primo ministro D'Araghi l'Italia ha svoltato e io mi auguro che possa durare il più a lungo possibile. Invece in merito allo scenario politico e imprenditoriale della regione Abruzzo qual è la sua valutazione? La valutazione è positiva perché noi abbiamo visto gli indici economici, macroeconomici di questa regione sono indubbiamente sopra la media soprattutto delle regioni del sud, siamo attestati più o meno come alcune regioni del centro nord sia per quanto riguarda l'occupazione, per quanto riguarda l'impatto della crescita economica delle aziende ma non ultimo anche l'export perché è fondamentale per noi la possibilità che le nostre aziende cioè le aziende che hanno sede in Abruzzo possano aumentare l'esportazione perché poi soprattutto lì che si può crescere economicamente esportando il nostro prodotto quindi l'industria manifatturiera è in crescita e tutti gli indici sono positivi insomma l'Abruzzo sta vivendo una fase di ripresa, di recupero ed è agganciata e questa è la notizia positiva alle regioni del nord Bene, come possiamo concludere questa nostra chiacchierata? Concludiamo con un po' di, come dire, visto che siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale significativo per la nostra regione ricordava lei, sono città importanti come Francavilla, Vasto, Lanciano, Roseto e Sulmona che vanno al voto quindi un invito al voto per Forza Italia, credete, dovete credere ancora in un partito liberale che punta sulle individualità, sulle persone, sulla capacità di impresa e direi che crediamo anche in questo governo nazionale, non tanto in tutto il governo ma nel nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi che ci sta portando fuori dalle sabbie mobili e io credo che questa sia importante, gli diamo fiducia a questo Paese, gli diamo fiducia alle nostre imprese Barri, 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 Barri Grazie a tutti.